È un film normale. Normale? Sì. Non ha niente di particolare. No. Abuele mio. Non ha niente di particolare, non ha niente di particolare, non ha niente di particolare. C'è com'era! Quindi tu ti definisci? Fanchita! Prima o poi trovo qualcuno proprio fidanzato per gentil'uomo, se da passeggiata. Io ho una visione della disabilità che è una visione spietata. Non vigilare più quando si fa, mai più! Non cinica ma spietata. A volte molti di questi ragazzi non fanno le cose perché nessuno le ha mai chieste. Federico Scandire, Scandire. Questa gara si chiama Primo e Ultimo. Bravo Simone! Non sapete cosa vi perdete ad essere normali. Quando io rimasi incinta di Andrea, era successo che era nato un bimbo senza mani, non ricordo una mia amica. qualcosa del genere. Per cui avevo paura che questo bimbo non fosse mai... E andai a Montenegro a piedi e chiedi. Dissi fammi avere un bimbo felice. E' veramente felice. La vita è bella, eh? Un bimbo dolcissimo, perfetto. Mi ha chiesto di sposarti? Non voglio, lui. Ma gli attori di questo film, come sono? Non è male. Ti voglio bene, Paolo. Per sempre. Per sempre. Teste down? No. Sono guarito. Bene, andiamo. Bene, andiamo. Bene, andiamo.